Giorno, mi chiamo Franco Ciampagna, sono un farmacista, vengo da Tivoli e lavoro presso la farmacia ballante di Tivoli. Cosa ne pensi del progetto? Il progetto è stato molto interessante perché dal punto di vista professionale per me ha rappresentato un arricchimento. Io non sono vegano, però spero di diventarlo perché mi sono assolutamente convinto che questa dieta può aiutare tantissime persone, me compresa, a vivere molto meglio. Come pensi che possa essere utile questo progetto per la tua farmacia? È utilissimo perché in farmacia la nostra professionalità spesso è messa a servizio degli utenti. Il farmacista è una figura professionale che oggi dispensa salute, quindi è importante conoscere anche alternative al modo di alimentarsi sbagliato attuale e quindi noi svolgiamo un ruolo fondamentale anche nella prevenzione. Quindi far conoscere il mondo vegano per me è un motivo anche professionale che mi permette di far del bene anche alle persone. Perché un farmacista è sensibile al mondo vegano? Perché sinceramente ho scoperto delle cose che non conoscevo e secondo me molte patologie, soprattutto quelle croniche, oggi sono dovute a una cattiva alimentazione. Alimentarsi in modo vegano spesso vuol dire anche guarire e prevenire e ne sono convinto perché le nozioni ricevute dai docenti che ci hanno documentato sui loro studi in questo corso è emersi che comunque facendo attenzione a ciò che si mangia, seguendo le linee di una dieta vegana spesso si possono anche sostituire alcune terapie farmacologiche in malattie croniche come potrebbe essere per esempio il diabete di tipo 2. Grazie a tutti.